AAA, candidato a sindaco Cercasi. A pubblicare la più tipica delle inserzioni oggi potrebbe essere benissimo il centrosinistra di Sciacca. A sette mesi dalla prossima scadenza elettorale, ancorché assai agguerrito nella polemica politica quotidiana, lo schieramento avversario della coalizione di governo, capeggiata da Fabrizio Di Paola, non sembra ancora in condizione di individuare una personalità su cui puntare per tentare di tornare alla guida della città. Naturalmente da queste parti sembra esclusa ogni ipotesi di riproposizione in piccolo di quella sorta di partito della nazione che sia Roma vede Matteo Renzi ed Angelino Alfano governare a Braccetto, a Sciacca vede PD ed NCD, protagonisti di un conflitto più che aspro, difficilmente risolvibile, anche se in politica talvolta si raddrizzano le gambe ai cani e qualche tentativo dai livelli romani sarebbe già stato fatto. È così, in attesa che Fabrizio Di Paola sciolga la riserva sulla propria eventuale ricandidatura, cosa che ha detto e intende fare dopo il referendum costituzionale, a questo punto evidentemente prima di Natale, è già scattato il Totonomi. Teoricamente, essendo il partito più grande, dovrebbe essere il PD a sottoporre ai possibili alleati la proposta di un proprio esponente per formargli attorno una coalizione che sia coese soprattutto in possesso di una significativa cultura di governo per evitare di ripetere gli errori commessi nel passato, tipo durante la sindacatura di Vito Bono, tanto per intenderci. Da quelle parti però tutto tace. Al nuovo segretario cittadino del partito, il renziano Michele Catanzaro, spetta il compito di riunire le varie anime del Partito Democratico, questione non semplice, soprattutto in questa fase, quella in cui parte della stessa sinistra interna sta battagliando nella campagna per il no al referendum del prossimo 4 dicembre. Eppure Michele Catanzaro in persona potrebbe scendere in campo, per dirla alla Berlusconi, per una candidatura a sindaco. Ci sono pressioni nei suoi confronti in tale direzione, puntando anche sulla sua giovane età, elemento che si pensa possa essere un attrattore nei confronti dell'elettorato. Ma uno dei nomi papabili per una possibile candidatura a sindaco, con l'intenzione di allargare il più possibile il raggio d'azione coinvolgendo nella partita magari Fabio Leonte e Paolo Mandracchia e altri soggetti civici, è anche quello del magistrato Nello Buongiorno, ex deputato nazionale. Un nome, questo diciamoci la verità, che viene puntualmente fuori ad ogni consultazione elettorale amministrativa, nome sponsorizzato dall'ex assessore Franco Lobue. Un nome, quello di Nello Buongiorno, in ogni caso autorevole e prestigioso, che sicuramente potrebbe tenere unito lo schieramento. Ma c'è anche chi, dentro lo stesso PD, immagina un accordo forte con sinistra italiana, rinunciando ad un proprio candidato appuntando su Leonte o magari sullo stesso Mandracchia. Idea questa che però troverebbe qualche resistenza da parte della centrista. Non va dimenticato che nello schieramento di centrosinistra sciacca c'è anche sciacca democratica di Nuccio Cusumano. Ebbene, si fa anche il nome dell'ex sottosegretario come possibile candidato a sindaco, ritenuto uno in grado di amministrare bene sulla base di un'esperienza acquisita sul campo in possesso delle chiavi giuste per aprire le porte degli uffici che contano a Palermo, a Roma e Bruxelles. Ma dallo staff di Cusumano escludono categoricamente un'ipotesi simile, così come Filippo Bellanca, da noi interpellato, esclude una sua possibile candidatura, la carica più importante del Comune. Circolano anche altre ipotesi, l'ex deputato regionale Vincenzo Marinello, oppure un possibile ritorno sulla scena di Ignazio Cucchiara, il quale però continua a dire che il sindaco l'ha già fatto e che adesso preferisce impegnarsi nella vita pubblica in modo diverso. Poi si parla anche di Mariolina Bono, 12 anni dopo la sua candidatura a sindaco, così come si parla di Filippo Marciante, ma neanche loro sembrano avere intenzione di candidarsi. Si sussurra insistentemente da tempo di un possibile impegno in prima persona di Carmelo Burgio, ex segretario generale del Comune di Sciacca, oggi in pensione. È improbabile tuttavia che Burgio possa accettare di candidarsi come possibile avversario di Fabrizio Di Paola, che lo volle al suo fianco come primo collaboratore. Burgio non è certo una persona senza scrupoli, privilegerebbe senz'altro il rapporto umano e si farebbe da parte. Sempre che il sindaco sciente intenda ricandidarsi, è chiaro, di fronte ad uno scenario diverso, infatti le cose potrebbero assumere connotazioni diverse. Di certo c'è chi ad oggi il centrosinistra di Sciacca ha le idee tutt'altro che chiare, ma tra sette mesi si vota e sette mesi in politica sono un attimo. Grazie a tutti.